Nuovo appuntamento con Spazio Notizia, ben ritrovati. Sabato scorso a Sant'Agata Libattiati, nel Catanese, il giornalista Simone Russo ha presentato il suo primo libro dal titolo Simone, l'animatore, racconti di un capovillaggio. Il ricavato di questo libro sarà devoluto in beneficenza, ma per tutti i dettagli sentiamo Lucio Di Maulo. Da un'esperienza traumatica come quella di restare 41 giorni in isolamento a causa del Covid, Simone Russo è riuscito a tirar fuori tutto il senso più bello di essere positivi. Simone, l'animatore, racconti di un capovillaggio, infatti è stato scritto nei 41 giorni di isolamento. Il giornalista Simone Russo ha deciso così di mettere nero su bianco i suoi momenti positivi. Un libro che si pone l'obiettivo di dare un senso doppio a questo ormai triste termine. Questo libro è frutto di un periodo brutto della mia vita, perché nel 2021 sono risultato positivo al Covid, la variante Delta, uno dei primi siciliani a prendere la variante Delta, e quindi sono stato chiuso in isolamento. Io sono uno di quelli che si dice un paziente long Covid e sono rimasto positivo 41 giorni. È incredibile questa cosa. Per fare l'isolamento sono andato in una casa disabitata per non stare con la mia famiglia, perché nel 2021 faceva paura il Covid. Quindi ho vissuto in questa casa dove non c'erano le utenze, perché era una casa disabitata, quindi per 41 giorni senza acqua, luce e gas. Per non impazzire ho detto butto giù delle idee, seguito da un mio amico psicologo mi ha detto guarda prendi foglie e penna e butta giù delle idee. Mi sono tornato indietro quando io avevo 20 anni, 18, che ero nei villaggi turistici in giro per l'Italia, dove appunto regalavo momenti positivi. Perché prima di questo virus, prima di questa pandemia il termine positivo era un termine bellissimo. E io regalavo positività nei villaggi, quindi da positivo ho voluto raccontare i miei momenti positivi. Un termine uguale ma con due significati totalmente diversi. Mi piace sottolineare che questo libro ha un valore doppio, perché ha fatto bene a me per superare quei momenti. E soprattutto l'intero ricavato di questo libro sarà devoluto a un'associazione sciocca di clown terapia all'interno degli ospedali di Catania, per portare positività all'interno delle strutture ospedaliere. Dobbiamo riappropriarci del termine positivo, che è un termine bellissimo. Dobbiamo riappropriarci sicuramente di questo termine positivo, ma anche della nostra vita, perché per un attimo ovviamente ci ha fatto soffrire, eccetera. Tu hai davanti un'altra persona che ha avuto anche il Covid, per fortuna in forma leggera, eccetera. Ma ecco, a proposito, chi deve leggere questo libro? Ma questo è un libro che fa bene a tutti, da ragazzino che vuole entrare nel mondo dell'animazione, alla persona adulta e comunque nel mondo dei villaggi, nel mondo turistico ci siamo entrati tutti. Quindi bene o male chiunque si troverà all'interno di questo libro, perché è un racconto, un racconto dei miei dieci anni, dieci anni di vita di villaggio, dove io da capo animatore ho visto veramente di tutto, è successo veramente di tutto, tutto quello che la gente non vede, perché ovviamente la gente è abituato a vedere l'animatore davanti, ma poi in realtà dietro c'è un lavoro intredibile e delle situazioni mega galattiche, da carabinieri a ospedali a liti, c'è tutto all'interno di questo libro che deve essere letto da chi vuole un po' di spensieratezza. In questo momento ne abbiamo tanto bisogno. Ed ora il calcio con il Catania, che ha concluso il suo strepitoso campionato con una sconfitta in dolore sul campo del Trapani. A fine partita però, mister Ferraro, tecnico dei Rossazzurri, ha mostrato una certa delusione per questo KO inaspettato. Da questa sconfitta ripartiamo più forte di prima, perché alla fine è stata una sconfitta che il Catania non la doveva fare, però per quello che ho visto il secondo tempo, un Catania con 5-6 palle goal, un goal annullato, un rigore non dato, diciamo che ho visto un Catania con grande voglia e una grande rabbia il secondo tempo. Il primo tempo è stato inguardabile dal punto di vista mentale, l'approccio fisico, però diciamo che nel calcio si sa, vincere così tante partite, errore in motivazione e tutto, oggi è la 34 partita, abbiamo fatto davvero tanti punti di vantaggio, allora con un Trapani motivato, con voglia di fare questa vittoria, diciamo che noi non avevamo la giusta motivazione, anche se quando ci mettiamo la media del Catania non deve capitare, però penso che, non lo so, forse non ho mai visto così tante palle goal come il Catania nel secondo tempo. Non ero nervoso, penso che la panchina di Strapani a un certo punto stavano stupendo in campo, non mi piace, mi piace che sono solo gli alleatori che stanno in piedi, tutta questa cosa, il Catania è vero, è una squadra importante, non c'è niente nella Serie D, non c'è niente, però non è che uno batte il Catania e facciamo una vigoria sproporzionale, questo non mi piace poi nella cultura dello sport, per questo loro era molto importante, le cittadini erano, hanno fatto bene, facci i complimenti al Trapani, i complimenti al pubblico, ci hanno fatto un applauso prima della partita, cioè è stata una bella accoglienza, però poi la panchina a un certo punto è troppo, Catania è Catania, Catania stava 31 punti dopo la seconda, non trovo sempre 40 punti sopra il Trapani, cioè Catania ha fatto un campionato stratosferico, oggi ci sento che noi non ci teniamo a prendere questa partita, perché abbiamo ancora un obiettivo da raggiungere, abbiamo una società che non vuole che abbassiamo la guardia, abbiamo un pubblico che ci aspetta ogni settimana che vuole una vittoria, per questo diciamo che da questa sconfitta, che abbiamo fatto un primo tempo sotto tono, abbiamo fatto un secondo tempo da Catania, ripartiamo più forte di prima per affrontare questa fusciudetta in maniera giusta. La politica con Giancarlo Cancelleri che spiega le ragioni che lo hanno spinto a lasciare il Movimento 5 Stelle e trasferirsi, diciamo così, in Forza Italia, non ho mai avuto nemici, ha dichiarato solo avversari politici, che ho sempre rispettato e da cui ho ricevuto rispetto. Come detto, dopo anni di militanza nel Movimento 5 Stelle, Cancelleri di recente ha deciso di passare a Forza Italia, scatenando chiaramente diverse polemiche. Due cose mi hanno colpito positivamente, ha aggiunto Cancelleri. La prima, il concetto di comunità espresso dal ministro Tagliani, riferendosi al lavoro sinergico che fanno all'interno di Forza Italia. La seconda, la verve mostrata dal presidente Schifani. Il Movimento, ha aggiunto, mi ha proposto la candidatura al Consiglio Comunale di Catania e io ho rifiutato, scegliendo di andare via e non candidarmi. In un mondo in cui tutti lasciano il proprio partito per una poltrona, io sono entrato in Forza Italia rinunciando a una poltrona, mi pare un buon inizio. Queste dunque le parole e le ragioni, per certi versi, di Cancelleri. Notizia invece da parte della DC, in questo caso, e riguarda Toto Cuffaro, che è stato eletto segretario politico nazionale della Democrazia Cristiana, lui già commissario regionale della DC in Sicilia. La prima elezione che è avvenuta ieri al termine del ventesimo congresso nazionale della DC. Con Cuffaro, che alla fine ha citato pure Martin Luther King, We have a dream, ha detto Cuffaro, abbiamo un sogno bellissimo e difficile, ma non utopico. Vogliamo un paese dove noi, i nostri figli, i nostri nipoti, possano vivere in un sistema politico, democratico e popolare. Dunque l'ADC, a livello nazionale, ha scelto, come detto, Toto Cuffaro. Ed ora la cronaca, partendo dall'Ennese, dove la Guardia di Finanza ha confiscato beni per 8 milioni di euro a un esponente della criminalità organizzata, appunto, dell'Ennese. Vediamo il servizio. La Guardia di Finanza di Caltanissetta, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Enna, su richiesta della procura distrettuale di Caltanissetta, ha sottoposto a confisca un patrimonio stimabile nel valore di oltre 8 milioni di euro accumulato da Felice Cannata, esponente della criminalità organizzata Ennese, già condannato, con sentenza irrevocabile datata 11 novembre 2015, per il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso in relazione alla sua appartenenza alla famiglia mafiosa di Pietra Perzia. In relazione a tale patrimonio, il giudice ha ritenuto gli indizi sintomatici della provenienza illecita. Cannata, che nel tempo si è occupato di reimpiegare capitali di illecita provenienza in attività produttive del nord Italia, in particolare nei settori della compravendita di autovetture, di grossa cilindrata, è stato coinvolto in un'operazione condotta dal GICO della Guardia di Finanza di Caltanissetta, sfociata tra l'altro nella pronuncia di condanna sopra richiamata. Sulla base delle plurime evidenze giudiziarie acquisite, risultate idonee a definire il profilo di pericolosità sociale del soggetto, i militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Caltanissetta, coordinati dalla locale direzione distrettuale antimafia, hanno eseguito una mirata indagine patrimoniale nei confronti di Cannata e del suo nucleo familiare, onde verificare la coerenza del relativo tenore di vita e del patrimonio posseduto con i redditi dagli stessi dichiarati. In particolare, le indagini hanno permesso di riscontrare l'incapacità del nucleo familiare e della proposto a far fronte agli impegni economici assunti. L'insieme dei redditi dichiarati o percepiti, confrontati con il valore dei beni acquistati e con le ulteriori uscite rilevate nel periodo temporale di riferimento dall'anno 2000 in poi, sono quindi risultati sproporzionati rispetto alle acquisizioni patrimoniali operate, dimostrando un tenore di vita decisamente elevato e incongruo rispetto alle possibilità reddituali o derivante da fonti di lecita provenienza. All'esito dei richiamati approfondimenti patrimoniali, già nel gennaio 2018 erano stati acquisiti elementi idonei per consentire alla DDA di Caltanissetta di ottenere dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Enna il sequestro dei beni oggetto dell'odierna confisca, a seguito della quale vengono ora acquisiti al patrimonio dello Stato un'azienda agricola ubicata in territorio ennese, 77 terreni ubicati in territorio nisseno ed ennese, 11 fabbricati, rapporti finanziari e beni mobili registrati. Ci spostiamo a Catania dove i carabinieri hanno arrestato un rapinatore seriale che dopo aver fallito un colpo, una rapina in banca, ci ha riprovato subito in una sala bingo. Come detto è stato individuato e poi tratto in arresto. I carabinieri della compagnia di Catania Piazza Dante hanno fermato e poi arrestato un pregiudicato catanese di 47 anni il quale ha tentato di rapinare la filiale Unicredit di Catania armato di un taglierino. L'uomo è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dell'istituto mentre minacciava due operatori della banca avvicinandosi al loro volto con un taglierino. Ma quando i due impiegati gli hanno mostrato che non era possibile aprire la cassaforte prima dell'orario previsto, il rapinatore ha desistito dal commettere il reato fuggendo a piedi e confondendosi tra la folla. Rimasto a mani vuote, l'uomo si è diretto presso la sala bingo di via Milazzo, zona Piazza Europa e lì, avvicinatosi a un'impiegata, l'ha insultata e minacciata di morte facendosi consegnare l'importo di 1000 euro contenuto nella cassa. Entrambe le vittime hanno sporto querela e i militari dell'arma sono riusciti a risalire all'identità del rapinatore grazie alle riprese degli impianti di videosorveglianza, riconoscendo che si trattava dello stesso uomo poiché aveva un tatuaggio con una croce sul viso. Rintracciato, il malvivente è stato sottoposto a fermo d'indiziato di delitto, tramutatosi poi in un'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di custodia cautelare in carcere per tentata rapina aggravata e rapina aggravata, in quanto si era avvalso del taglierino per convincere le vittime a farsi consegnare il denaro. Restiamo a Catania, ma per parlare in questo caso dei controlli effettuati dalle forze dell'ordine nell'ultimo fine settimana, controlli soprattutto nelle zone della cosiddetta Movida, ovvero zone maggiormente frequentate nel weekend dai giovani. Allora vediamo com'è andata in questo fine settimana, ovviamente non sono mancate le sanzioni. Proseguono senza soluzione di continuità i controlli sulla Movida catanese. In attuazione delle direttive emanate in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in prefettura, il questore di Catania ha disposto complessi e articolati controlli nelle vaste zone del centro storico, divise, al fine di migliorare l'efficienza operativa, in tre aree corrispondenti di massima a via Santa Filomena e via Gemellaro, piazza Bellini e piazza Scammacca e piazza Federico di Sveglia e piazza Currò. Sono stati impiegati equipaggi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale, coordinati da un funzionario di pubblica sicurezza che hanno vigilato sulle dinamiche collettive e operato diversi controlli nei confronti di soggetti in transito. Complessivamente sono state controllate 170 persone e 87 veicoli, 9 esercizi pubblici, sono state contestate 11 violazioni del Codice della Strada, 3 veicoli sono stati sequestrati e 2 mezzi sono stati sottoposti a fermo amministrativo. Da evidenziare gli esiti dei controlli eseguiti sui locali di piazza Scammacca dai Carabinieri e dalla Polizia Locale, settore Annona. Qui, infatti, sono stati sanzionati ben 5 esercizi pubblici per occupazione abusiva di suolo pubblico. Nell'ambito dei servizi in argomento, personale della Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà due minori per falsità materiale commessa in certificati o autorizzazioni amministrative. I due sono stati fermati a bordo di uno scooter su cui, a seguito delle verifiche, è risultata montata una targa alterata che è stata sequestrata per gli adempimenti normativi, mentre lo scooter è stato sequestrato ai fini della confisca. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui ma ci ritroviamo più tardi per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia. Grazie a tutti.